ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi dei parafarmaci più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o princapi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il parafarmaco acnidral a cosa serve acnidral a un parafarmaco appartenente alla categoria degli inestetismi cutanei viso acne cooperose brufoli eccetera è commercializzato in italia dall'azienda dorsan srl informazioni commerciali titolare dorsan srl concessionario dorsan srl categoria di appartenenza inestetismi cutanei viso acne cooperose brufoli eccetera confezioni acnidral crema coadiuvante in terapia antiacne 75 ml acnidral detergente per pelli acneiche 75 ml acnidral micropel micro peeling per pelli acneiche e seborroiche 200 ml fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato